Eccoci ritornati sempre da Estoril, il primo round della stagione 2018 dell'International GT Open. Dunque andiamo insieme a scoprire chi sarà l'erede di Giovanni Venturini, campione in carica dell'International GT Open stagione 2017. Sicuramente lui stesso cercherà di essere il proprio successore, sarà tra l'altro impegnato proprio Venturini in questa prima sessione di qualifica. Si aprirà fra pochi secondi la pitlane. Si schiera proprio una vettura di casa imperiale davanti a tutti. Dunque buongiorno in Italia o a chiunque ci ascolti in italiano per questo streaming dedicato in italiano dell'International GT Open qui a Estoril dove le aquile volano basse per vedere chi partirà in pole position. Bandiera verde intanto in fondo alla pitlane. Dunque parte ufficialmente la stagione 2018 con 13 gradi, la temperatura ambiente 15, la pista è 77% di umidità con qualche possibilità di pioggia nel pomeriggio. 30 minuti di qualifica che hanno visto proprio Giovanni Venturini uscire per primo dalla pitlane. bandiera verde che sventola in fondo alla corsia dei box qui con la BMW M6 GT3 di Fran Rueda che lo scorso anno ha lottato fino all'ultimo proprio con Venturini per l'assegnazione del titolo. Per Rueda un nuovo compagno di squadra. non c'è più Victor Boveng passato in altre categorie tra cui il VLN che corre solo sul circuito del Norshleif. Con lui c'è il guatemalteco Andres Saravia proveniente dalla Euro Formula Open ed eccolo qui il campione in carica dell'International GT Open 2017. L'orgoglio della famiglia Lamborghini Giovanni Venturini Vicentino. al via nuovamente con la compagine imperiale nuovo compagno di squadra nell'International GT Open. Per lui Gérard Moule pilota olandese che tuttavia è una vecchia conoscenza di Venturini. Entrambi hanno corso infatti insieme con la stessa vettura nello stesso abitacolo nel Blank Pain Endurance nella stagione 2015. Dunque dopo tre anni Giovanni ritrova Moule come compagno di squadra. Alle sue spalle c'è niente meno che la vettura numero 25 sempre di casa imperiale con Rick Braukers alla guida. In questo momento pilota anche gli olandese che divide l'abitacolo con Riccardo Agostini. Pilota Veneto Padovano in questo caso che vedremo nella qualifica di domani. I contatti delle pagine social del GT Open in sovraimpressione. L'hashtag GT Open e Storill per partecipare alla conversazione. Dunque giro di uscita dai box. In questo momento un Installation Lab solo completato per la BMW di casa Theo Martin Motorsport. Rivediamo in azione con la Ferrari anche Michele Rugolo. Pilota anche lui Veneto. In azione con il neonato Team Luzic Racing. Intanto un lungo per la Lamborghini di casa Bratislava. La vario pinta e variegata vettura gialla. Miro Conopa alla guida con la vettura numero 9. Pilota di classe AM lascia passare la vettura gemella di casa. Ombra al ritorno in campionato con pagina italiana. Campione in carica della serie tricolore che ha deciso di tornare in azione con Paul Riese e con Damiano Fioravanti. Pilota cresciuto nella serie propedeutica al GT Open promossa da GT Sport. Ovvero l'Euroformula sempre con RP Motorsport con cui ha poi debuttato anche in World Series. Ma qui con un grandissimo ritorno il Team Lazarus. Inquadrato il barone rampante Giuseppe Cipriani. Uno dei piloti italiani più grandi. Caratura un vero e proprio personaggio. Protagonista sin dagli anni 80 in monoposto. Poi protagonista dell'auto GP e della World Series in monoposto. Ha strigliato parecchi ragazzini che arrivavano al primo contatto con le vetture. Adesso invece si trova lui nella situazione di essere alla prima presa di contatto con una vettura GT. Giuseppe che ha sempre adorato le monoposto. Ha deciso di provare questa nuova avventura. Ha come compagno di squadra l'inquadrato Fabrizio Crestani. Vettura numero 27. Crestani già campione dell'International GT Open. Due stagioni orsono proprio col Team Lazarus e con l'inquadrata Huracan GT3. All'epoca aveva come compagno di squadra Thomas Biagi. Adesso invece si ritrova Miguel Ramos. Pilota portoghese dunque gara di casa per questa Lamborghini numero 27 con la colorazione Vodafone. Entrambi sono due campioni consecutivi dell'International GT Open. Nel 2016 Crestani nel 2015 Ramos quando guidava all'epoca la McLaren del Theomartin Motorsport. C'è un altro campione del GT Open Andrea Montermini. Dunque una griglia ricchissima di talenti per questa stagione 2018. Un livello incredibile, un controllo intanto già della vettura di casa Ombra con Fernando Ries alla guida. 1.37.424 il primo tempo registrato dalla Mercedes numero 20 Thomas Longcall. Pilota inglese che già lo scorso anno si era contraddistinto nella classe Pro-Am. Alla guida della vettura di casa SPS con pagina tedesca con base ad Heilbron vicino ad una delle fabbriche di Audi. Dunque scelta rivoluzionaria per i tedeschi che invece che una vettura di Stoccarda hanno deciso di prenderne una di Stoccarda. Rugolo in seconda posizione provvisore 291 millesimi ma la pole position va ora nelle mani di Michel Mack. Pilota danese in coppia con Alessandro Pierre Guidi, uno degli equipaggi da tenere d'occhio. In questa stagione due piloti scatenati, giovani e veloci con il pilota danese già lo scorso anno in seno al team Ferrari, la vettura di casa Spirit. Quest'anno invece è Luzic Racing a portare in alto gli standardi di Maranello. Mack che ha lottato per il titolo insieme a Ramos lo farà sicuramente quest'anno insieme a Perguidi. Conferma la terza posizione Rugolo con la seconda Ferrari nelle prime tre posizioni. Fabrizio Crestani intanto sale al quarto posto. Inquadrata al volo anche la vettura della WS Racing di Vincenzo Sospira e Lamborghini proprio davanti all'inquadrato Michele Rugolo. Il pilota di casa Luzic che prende parte alla classe Pro-Am insieme ad Alexander West, uno dei gentleman che hanno animato la sfida della Pro-Am negli scorsi anni. West che da sempre era legato al team McLaren ha dunque deciso di passare invece a Ferrari quest'anno. Un ottimo acquisto per le vetture di Maranello. La 488 GT3 è una vettura che solitamente si presta molto ad adattarsi alle qualità di guida dei piloti gentleman. Larghissimo intanto Mack in uscita dall'ultima curva va probabilmente a migliorare il proprio tempo. Il danese così è 1.37.160 è il limite della pole position provvisoria di Michel Mack che rifila così due decimi alla Mercedes di Tom Oslom. Cole in seconda posizione poi Michele Rugolo, Fabrizio Crestani, Kangling in quinta posizione, Marcelo Hahn sesto, Jamie Campbell-Walter. Un altro calibro di grosse dimensioni che scende in pista nell'International GT Open protagonista ai tempi del FIA GT. Sì quasi ormai 15 anni fa Antonio Coimbra primo dei piloti della classe AM con la Mercedes AMG GT3. Una delle vetture in assoluto più competitive per fortuna. Per gli altri non c'è un AMG GT3 nella classe Pro altrimenti avrebbe probabilmente vinto a mani basse qualsiasi gara fino ad ora disputata. Nessuna nella stagione 2018 ma ovviamente parliamo delle annate precedenti. Ai box invece Giovanni Venturini che ha compiuto un solo giro lanciato 1.41.3 solo per verificare che tutto funzionasse. Tornerà a breve in pista il Vicentino. Stessa tattica anche per Raffaele Gianmaria che corre in classe Pro AM. Gianmaria è il secondo pilota ufficiale Lamborghini impegnato in questo campionato. Dopo aver militato come supporto di Ezequiel Perez Compank lo scorso anno in seno al Team Grasser. Gianmaria quest'anno è stato portato e promosso al ruolo di pilota ufficiale nonché anche responsabile del programma Giovanni di casa Lamborghini di cui fa parte tra l'altro anche Riccardo Agostini che è parte del team imperiale sulla sterza Huracan GT3 che è guidata invece in questo turno da Rick Braukers. Dunque si alternano in questa composizione gli equipaggi con i piloti italiani con Gianmaria e Venturini in pista oggi e Agostini domani. Agostini ha la prima apparizione nell'International GT Open sale intanto al quinto posto Andrea Mortermini con la Ferrari 488 di casa RS Racing. Una nuova squadra con la partecipazione anche imprenditoriale di Diamato un ragazzo proveniente dal Challenge giovane e intraprendente che ha scelto proprio di legarsi all'esperienza di Andrea Mortermini per questa prima apparizione nell'International GT Open. Fiducia ben riposta in questo momento con Montermini che sta andando a migliorarsi anche nel primo settore migliora anche Coimbra con la Mercedes di classe AM Lorenzo Brauda Vega intanto porta la BMW M6 GT3 in quinta posizione eccola qui inquadrata la bellissima auto di casa Theo Martin Motorsport rientra Oson Call in pitlane come precedentemente aveva già fatto anche Fabrizio Crestani e Marcello Hahn. è rientrato anche Giuseppe Cipriani come Marco Zantini con la Mercedes di casa Cripton. sale in seconda posizione intanto l'altra BMW M6 di casa Theo Martin quella di Fran Rueda solo i 36 millesimi a dividere l'M6 dalla 488 GT3 eccola qui inquadrata di Michel Mac della Luzic Racing dunque BMW che si conferma come l'anno scorso da non sottovalutare un'auto che riesce sempre a sorpresa a cogliere la prestazione dunque un'ottima strategia questo è il grande lavoro ovviamente fatto da Emilio De Villota team manager di grandissima esperienza che si è avvicinato al progetto di Theo Martin coinvolgendolo appunto in Formula 3 seguendo anche il GT e con la scomparsa ormai World Series dunque una filiera dei madrileni che ha portato alla lotta per il titolo con questa M6 una vettura difficilissima da sviluppare ma che grazie anche al supporto dei bavaresi la compagine di Madrid è riuscita a rendere competitiva ball provvisorio di Rick Breukers 1.36.968 per l'inquadrata vettura di casa imperiale dunque Lamborghini suona alla carica sono usciti dei box anche Gian Maria e Venturini West che sta seguendo sull'account Twitter del GT Open la sessione con l'hashtag GT Open Nestor Hill concentratissimo anche Pier Guidi che segue il lavoro del compagno Mac 192 millesimi il ritardo nell'anese viene intanto cancellato il tempo di Rueda che scivola così in quarta posizione sette decimi dalla pole di Breukers comunque alle spalle di Mac e Oslon Cole stessa sorte anche per Andrea Montermini 1.32.758 giro che viene cancellato in Ghiaia la vettura del VS Racing di Kang Ling pilota cinese già protagonista lo scorso anno dell'International GT Open sempre con una Lamborghini in questa serie poi passato a disputare alcune gare sempre con la Lamborghini in Asia cresciuto nel vivaio dell'Euroformula dunque piloti che restano fedeli al contenitore di GT Sport sempre la curva sette quella che crea qualche preoccupazione ai piloti eccola qui inquadrata con Andrea Montermini che affronta in maniera molto blanda quel cordolo rientra ai box Breukers terza posizione per Giovanni Venturini 1.37.169 due decimi il distacco del Vicentino dalla pole del compagno olandese che divide l'abitacolo con Riccardo Agostini eccolo qui inquadrato il campione in carica dell'International GT Open bella prova di casa imperiale con pagine coordinata da Giorgio Ferro al Muretto il Vicentino continua a spingere perché ha soli 9 millesimi di ritardo da MAC 19.4 nel primo settore vediamo come la Huracan GT3 uscirà dal secondo intermedio con la grafica proposta dal regia con 12 millesimi di ritardo al primo settore seguiamo invece Gian Maria che conclude il suo giro in quinta posizione grazie alla scia della Mercedes di Zantini lascia adesso passare il pilota italiano di casa Lamborghini Venturini 47.0 nel settore centrale eccolo qui Raffaele Gian Maria con i classici numeri di casa Lamborghini 1963.19.63 le vetture a cui si è aggiunta la 25 di Agostini sale in seconda posizione Venturini 1.37.0 il tempo sulla linea del traguardo del pilota di casa imperiale dunque riesce il pilota di casa imperiale a portarsi in prima posizione mentre stiamo vedendo il giro di rientro di Raffaele Gian Maria ritorniamo ai box con Andrea Montermini italiani sugli scudi in questo momento siamo riusciti a cogliere il dialogo tra i tecnici e il pilota Antonio Coimbra intanto con la Mercedes numero 99 leader della classe AM dodicesima posizione assoluta in questo momento Mercedes che è andata molto bene anche nella Pro AM con Tom Oslon Collin Paul per quanto riguarda la propria classe in quarta posizione assoluta 420 millesimi da Rick Braukers dunque due Lamborghini davanti a tutti in questo momento transita sul traguardo ora Fabrizio Cristani che si migliora sale in quarta piazza il pilota trevigiano 1.37.261 miglior settore nel primo, secondo e terzo rilevamento per lui, contatto quasi ravvicinato tra l'Audi e la Mercedes in uscita dai box già ieri Wilkinson era stato autore di un contatto con la Mercedes di casa Cripton probabilmente un problema tecnico eccola qui per la vettura numero 26 se era una prova di partenza era un atto definibile quasi sciagurato vista la posizione sembra comunque ripartire la Audi R8 Audi che finalmente torna a tempo pieno nel GT Open un'apparizione proprio del Team Optimum l'anno scorso a Barcellona due i piloti impegnati in questa occasione Badre Ellis e Oliver Wilkinson due inglesi simpatici due piloti determinati a fare bene in questa categoria la Pro-Am la loro no eccolo qui il testa coda di Wilkinson che riesce comunque a rimettersi in pista solo usciva la Mercedes dai box non sembravano esserci delle grandi bandiere gialle a segnalare questo problema però comunque non ci sono stati inconvenienti dunque la sessione prosegue con 12 minuti e mezzo al termine intanto i team manager della vettura di Montermini e di Marzio Basso dovranno recarsi in direzione gara dunque probabilmente una fase di doppiaggio o meglio di passaggio delle vetture più lente ha coinvolto proprio Montermini e Basso nessun problema però al momento per i due Montermini che è in decima posizione peccato gli sia stato cancellato uno dei migliori tempi per aver superato il limite della pista in curva 7 qui Fernando Riese esperto pilota che ha deciso di abbracciare il team Ombra e le Lamborghini Huracan GT3 al suo fianco ci sarà Damiano Fioravanti pilota romano in arrivo dalle monoposte alla prima esperienza con le vetture a ruote coperte qui con Braekers pilota olandese di casa imperiale la bellissima Mercedes di casa Drivex con Han e Kodair a dividersi ancora il volante come l'anno scorso qui Marcelo Han che vede invece in Christian Han la dinastia continuare correndo in Euroformula dunque un ottimo contatto e contratto per la Famiglian con il team Drivex e qui Marco Zanuttini con la Mercedes AMG GT3 a ritorno nell'International GT Open saltiamo da una vettura all'altra per dare appunto l'idea di quella che è la variegata partecipazione di concorrenti all'International GT Open Giuseppe Cipriani in quello che è il suo giro di uscita dai box non deve essere facile adattarsi ad una vettura così elaborata e diversa rispetto alle potenti World Series che aveva guidato nelle ultime stagioni Giuseppe comunque in un'onorevole diciassettesima posizione assoluta primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto di casa di classe Pro-Am dunque ottima prova per Cipriani in questo debutto in campionato a seguirlo sempre dalla parte tecnica Ferdinando Ravarotto storico partner di Giuseppe anche nell'operazione del Barone Rampanti insieme a Modesto Benegiamo che si occupa della parte così diciamo sportiva ecco più amministrativa che non invece quella tecnica lasciata alle esperte mani di Ferdinando dunque un trittico d'attacco tutto italiano per il team Lazarus che invece ha visto comunque anche ieri Cristani conquistare il miglior tempo nella prima sessione di Prove Libre e nella seconda sessione di Prove Libre l'altra vettura quella appunto con Giuseppe Cipriani alla guida e un ragazzo giovane Toby Sowery proveniente dall'Inghilterra che affianca proprio Giuseppe in questa esperienza sale intanto in seconda posizione la Mercedes di Jamie Campbell Walter eccola qui inquadrata soli 15 millesimi di ritardo da Brokers e 97 di vantaggio su Venturini dunque in meno di due decimi abbiamo le prime due file con anche Mac all'interno di questa forbice ci sono nove piloti in meno di otto decimi poi un gap importante mezzo secondo a separare Michele Rucolo dalla Audi di Oliver Wilkinson che però forse a causa del testacoda non ha potuto esprimere al massimo il potenziale della sua vettura vengono cancellati i tempi di Cipriani dunque un potenziale ancora maggiore per il pilota veneziano che avrà sicuramente modo di recuperare in questi ultimi otto minuti che mancano all'esposizione della bandiera a scacchi è tornato in pista anche Michel Mack è uscito ora dai box Giovanni Venturini tra quelli che hanno partecipato alla conversazione c'è ovviamente anche uno dei piloti impegnati nell'Euroformula negli anni passati Kevin Cekon che salutiamo da casa chissà che non riesca a trovare un sedile nel corso della stagione tanti gli appassionati che seguono le gare del GT Open tanti anche i piloti che passano dal paddock del GT Sport e restano legati e vincolati ai legami affettivi che si creano in questo paddock Brokers rimane intanto ancora ai box con sette minuti e mezzo alla fine si migliora Mack che va a prendere la pole position provvisoria in 1.36 611 continua ancora a spingere il danese 19.3 nel primo settore 179 millesimi di vantaggio come mostra la grafica supera l'Audi di Wilkinson in staccata non si scompone la 488 del danese è arrivato carichissimo in vista di questo appuntamento largo larghissimo in uscita dalla curva a destra cancellato intanto il tempo invece di Lorenzo Beroda Vega infatti ha scivolato fino alla 22esima posizione la BMW M6 che avevamo vista impegnata in precedenza si migliora comunque sia nel primo che nel secondo settore il pilota di casa Teo Martin percorrenza di ultima curva ormai quasi per Mack record nel primo e nel secondo settore ha quasi mezzo secondo di vantaggio sul proprio tempo vediamo da 36,6 se riusciranno a scendere sotto il muro del 36 passa ora sulla fotocellula del traguardo la Ferrari numero 51 di Michel Mack 136,206 per il danese 762 millesimi di ritardo ecco la vera al moretto del Luzic Racing che controlla i progressi dei piloti di casa Luzic appunto con pagine statunitense al debutto nell'International GT Open bello vedere che arrivino anche da oltremanica le squadre interessate a partecipare alla serie promossa dalla GT Sport di Jesús Pareja sono rientrati invece Fabrizio Crestani e Tom Oslon Call vediamo se riusciranno in questi ultimi sei minuti che quasi a recuperare posizioni in classifica rispettivamente quinta e sesta piazza per loro ha dato uno strattone importante alla classifica Mack con questi due giri sette decimi di ritardo per Rick Brokers che aveva ottenuto la pole provvisoria a metà del turno sale Fernando Risi in sesta piazza con la Lamborghini di casa ombra velocità di punta più elevata per lui fino ad ora 262 chilometri e 7 in rettifilo si accoda intanto Mack alla BMW M6 tempi alti ma non altissimi per il pilota danese che forse ora molla il colpo e verosimilmente rientrerà i box avendo utilizzato ormai già il picco della gomma transita ancora sul traguardo Brokers con Venturini che si migliora si porta a 369 millesimi di ritardo dalla pole position di Mack 263 chilometri infatti rientra intanto i box Mack 263 chilometri orari per il Vicentino viene però cancellato il tempo di Ries 1.37.2 dunque scivolerà la Lamborghini Huracan di casa ombra dalla sesta posizione che occupa in questo momento rientra i box anche Campbell Walter è uscito invece Tomo Sloncol quinta piazza arpionata da Fran Rueda con la prima BMW in classifica in questo momento 4 minuti al termine con Venturini che ancora si migliora nel primo settore record 19.3 per il pilota Vicentino soli 23 millesimi nei confronti di Mack deve cercare di recuperare soprattutto nel terzo settore dove aveva perso un po' il pilota danese 16 millesimi adesso solo il vantaggio di Venturini sulla pole provvisorio di Michel Mack dunque deve cercare in questi ultimi metri Venturini di portare a casa il risultato vetture più lente davanti a lui in uscito dall'ultima curva che potrebbero però dargli la scia vediamo sulla linea del traguardo se il Vicentino riuscirà a scalzare Mack dalla pole position così non è purtroppo Venturini perde nel settore finale il traffico veramente ha disturbato il suo giro 1.36 530 scende comunque a 324 millesimi il ritardo difficile che Giovanni abbia ancora negli pneumatici Michelin un altro tentativo per migliorarsi infatti 21.6 ha alzato il piede ormai Venturini nel settore iniziale miro con occa intanto larga una Mercedes in percorrenza di curva 4 mentre stava transitando la vettura di Kang Ling del VS Racing ha comunque ripreso senza problemi la via della pista non abbiamo segnalazioni di bandiere gialle adorabile anche il contributo di Alex Fontana campione dell'Euro Formula Open 2011 che sta partecipando alla conversazione sui social qui intanto inquadrata la bellissima BMW M6 di Marzio Basso pur iscritta alla classe AM è la prima volta che la BMW M6 partecipa alla classifica AM sarà dunque importante vedere quale sarà il confronto soprattutto in resa nella gara con la Mercedes AMG GT3 che si è dimostrata assolutamente imbattibile anche nei confronti di Ferrari e McLaren negli anni precedenti peccato non vedere dopo tanti anni la presenza della 650S non è però detto che riesca intanto di traverso Brokers col sorpasso in esterno nella vettura di Tom Oslon con l'appaiati non si sono accorti di essere in qualifica i due sull'erettilino del traguardo nessuno vuole mollare con Cole che migliora la propria prestazione in 1.36 765 resta all'interno di Brokers che non riesce dunque a togliersi il pilota inglese da davanti si è scivolato in quarta piazza il pilota di casa Lamborghini ci saranno sicuramente delle polemiche a seguito di questa manovra ma nessuno dei due poteva mollare erano entrambi nel giro lanciato bellissima situazione del GT Open già dalla qualifica dunque immaginatevi che cosa potrà essere la gara questo pomeriggio alle 15 e 15 locali un'ora di differenza rispetto all'Europa continentale e all'Italia Mac che con Pierguidi analizza e la propria prestazione e quanto avvenuto in pista comunque ormai una pole position che sembra essere saldamente nelle mani della 488 con 30 secondi che mancano all'esposizione della bandiera scacchi Andrea Montermini qui inquadrato di traverso in uscita dal cordolo con un secondo e 6 di ritardo dovrebbe potrebbe verosimilmente l'italiano andare a recuperare posizioni peccato gli sia stato annullato uno dei migliori tempi nella prima parte di qualifica già ormai gli abbracci in Luzic Racing per la pole position Gianluca Sciarra pronto a cogliere per il sito ufficiale del GT Open queste immagini va largo intanto basso non si avvede dell'arrivo di una vettura che lo stava doppiando dunque preferisce andare largo piuttosto che incorrere in un contatto bandiera scacchi intanto sventolata adesso su una linea del traguardo già in pit lane Michel Mack sta celebrando la pole position cercheranno di migliorarsi il pilota è ancora in pista non lo farà ovviamente Brokers protagonista di quel confronto con Tom Oslon Cole all'ultima curva vedremo se le telecamere coglieranno il confronto fra i due a rientro passa sul traguardo Montermini che migliora il proprio tempo nel settore centrale si porta in undicesima piazza dunque appena fuori dalla top ten al debut l'RS squadra che porta in pista questa Ferrari 488 GT3 Tom Oslon Cole rientra ai box protagonista di quell'affiancamento con Rick Brokers sul rettilineo del traguardo bandiera scacchiere sventolata per tutti il GT Open celebra il primo poleman della stagione 2018 Michel Mack pilota danese di casa Luzic con la Ferrari 488 GT3 davanti al campione in carica Giovanni Venturini che scatterà così in prima fila con la Lamborghini Huracan GT3 di casa imperiale seconda fila per Tom Oslon Cole e Rick Brokers già protagonisti di una battaglia fianco a fianco in occasione delle qualifiche immaginate dunque cosa potrà essere la prima curva il ritorno sugli scudi Jamie Campbell Walter in quinta piazza davanti a Fran Rueda in difficoltà la BMW M6 se lo aspettavano però un po' dal Teo Martin Motorsport settimo tempo per Fabrizio Crestani campione due stagioni orsono del GT Open davanti ai rientranti del team Ombra con Fernando Ries alla guida chiudere la quarta fila top 10 chiusa da Raffaele Gian Maria e Michele Rugolo dunque team imperiale che piazza tutte e tre le proprie vetture in top 10 poi Montermini lì in Wilkinson Berauda Vega Han scorre intanto la grafica dalla regia che riepiloga quanto abbiamo detto Ferrari Lamborghini Mercedes BMW nelle prime posizioni tantissime le Lamborghini in classifica nelle parti alte ottima anche la prestazione della Mercedes della classe pro quella di Campbell Walter dunque il team Drivex ci darà la possibilità di vedere il potenziale di questa auto nel campionato pro e dunque scorrono non scorrono le posizioni eccole qui con Ling in dodicesima piazza Wilkinson in tredicesima da Vega quattordicesimo Han Coimbra primo della classe Han davanti a Lewadowski di casa Sospiri dunque il team di Vincenzo Sospiri con pagina romagnola che debutta nel GT Open davanti a Cipriani Arciau in abbasso poi Zanuttini e Konopka queste le posizioni dell'International GT Open sarà dunque interessante vedere come partiranno questo pomeriggio con sempre la possibilità di precipitazioni e pioggia che ha colpito i giorni precedenti dunque l'appuntamento è per la gara di questo pomeriggio alle 15.15 sempre sui canali del GT Open l'Università l'Università Grazie a tutti